oggi ci troviamo in valle varaita per visitare due borgate del comune di sanpeire le borgate confine inferiore e confine superiore in questo momento ci troviamo nella borgata confine superiore dove un simpatico cagnolino difende il suo territorio il nome delle borgate confine ha ragioni storiche poiché in questi borghi passò per decenni il confine tra il marchiosato di saluzzo e il delfinato questa borgata è in una posizione veramente invidiabile è immersa nella natura, baciata dal sole e si può apprezzare il silenzio e la tranquillità grazie a tutti 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 Siamo la borgata confine inferiore. Questo borgo un tempo era abitato da una comunità che superava le 100 persone. Abbiamo incontrato una signora che risiede qua tutto l'anno e il marito ha un allevamento di cavalli merengs. Siamo la borgata confine inferiore. La cappella dedicata alla Madonna addolorata che attualmente è oggetto di restauro e risanamento conservativo. Siamo la borgata confine inferiore. Una passeggiata fra gli stretti vicoli di questa borgata ci fa apprezzare la cura con cui sono state restaurate queste abitazioni. Siamo la borgata confine inferiore. Questa gitta in Valle Varaita mi ha portato a scoprire due borgate di cui non conoscevo neanche l'esistenza. E' veramente piacevole fare queste scoperte e trovarsi in mezzo alla natura, alla tranquillità e al silenzio. Grazie a tutti per la visione e al prossimo video. Ciao da Walter